ventisette novembre post mortem la stanza era candida e luminosa un nido di tessuti morbidi e tendaggi vaporosi dalla finestra si vedeva l'azzurro intenso del mare in seguito mi dissero che dalla clinica Corachan non si scorge nessuna distesa d'acqua che le sue camere non sono né bianche né etere e che in quel mese di novembre il mare era una tavola plumbe a fredda e ostile che in quella settimana su barcellona era caduto un metro di neve che persino fermin l'eterno ottimista temeva che morissi di nuovo ero già morto una volta nell'ambulanza tra le braccia di bea e del tenente palacios che si era sporcato la divisa con il mio sangue la pallottola dicevano i medici convinti che non potessi udirli mi aveva perforato il torace frantumando due costole sfiorando il cuore e tranciando un'arteria ed era uscita a tutta velocità trascinando nella sua folle corsa tutto quello che le ostruiva il cammino il mio cuore smise di battere per 64 secondi mi dissero che una volta rientrato da quel breve viaggio nell'aldilà riaprì gli occhi e sorrisi prima di perdere nuovamente conoscenza mi svegliai otto giorni dopo i giornali avevano già pubblicato la notizia della morte dell'ispettore capo della polizia francisco javier fumero avvenuta durante uno scontro con una banda di malfattori le autorità stavano cercando una via o anche solo un vicolo da intitolargli il suo fu l'unico cadavere a essere rinvenuto nella vecchia dimora degli aldaia i corpi di penelope e del figlio non vennero mai ritrovati mi svegliai all'alba ricordo la luce dorata sulle lenzuola aveva smesso di nevicare qualcuno aveva sostituito il mare al di là della finestra con una piazzetta dove dondolavano alcune altalene mio padre seduto accanto al mio letto alzò gli occhi e mi guardò in silenzio gli sorrisi e lui scoppiò a piangere fermi dormiva alla grande in corridoio con la testa sulle ginocchia di bea si precipitarono nella stanza il mio amico era bianco e magro come un grissino perché il sangue che mi scorreva nelle vene venni poi a sapere era il suo il mio lo avevo perso tutto da giorni fermi si rimpinzava di bistecche alla mensa della clinica per produrre globuli rossi nel caso si rendesse necessaria un'altra trasfusione forse per questo avevo la strana sensazione di essere più saggio ho un ricordo nebuloso di quella giornata ero circondato da una foresta di fiori e la stanza si era riempita di gente gustavo barcelò e sua nipote clara bernarda e il mio amico tomà che non aveva il coraggio di guardarmi in faccia e che quando lo abbracciai scappò in strada piangere ricordo vagamente don federico che era venuto con merceditas e don anacleto ma soprattutto ricordo bea che mi osservava in silenzio mentre tutti si congratulavano e ringraziavano il cielo e mio padre che per sette lunghe notti non si era mai mosso da quella sedia pregando un dio in cui non credeva quando i medici obbligarono la brigata a levare le tende e mi imposero di riposare mio padre si avvicinò al letto per darmi un quaderno e la mia penna la stilografica di victor hugo nel caso mi venisse voglia di scrivere fermin che aveva consultato l'equip medica della clinica mi comunicò esultante che sarei stato esonerato dal servizio militare bea mi baciò sulla fronte e accompagnò mio padre a prendere una boccata d'aria dal momento che non era uscito da quella stanza per un'intera settimana restai solo ero sfinito e ben presto mi arresi al sonno guardando l'astuccio della penna appoggiato sul comodino fui svegliato da un rumore di passi mi sembrò di vedere mio padre ai piedi del letto o forse il dottor mendoza che veniva a controllarmi dieci volte al giorno convinto che fossi un miracolato il visitatore girò intorno al letto e si accomodò sulla sedia di mio padre aveva la bocca secca e non riusciva a parlare julien carà avvicinò un bicchiere d'acqua alle mie labbra e mi sostene la testa mentre lo sorseggiavo nei suoi occhi c'era uno sguardo di addio ma compresi che non aveva scoperto la verità su penelope non rammento con precisione le sue parole né il suono della sua voce ricordo però che mi strinse la mano e mi chiese di vivere per lui mi disse che non ci saremmo più rivisti ma non ho dimenticato le mie parole lo pregai di riprendersi quella penna che era sempre stata sua e di ricominciare a scrivere quando mi svegliai bea mi stava rinfrescando le tempie con un panno inumidito con acqua di colonia allarmato le chiesi dove fosse carà lei mi fissò turbata e mi spiegò che giuliano era scomparso otto giorni prima nella bufera lasciando una scia di sangue sulla neve tutti lo davano per morto le dissi che era appena stato lì con me bea mi sorrise condiscendente e l'infermiera che mi stava misurando la pressione mi assicurò che avevo dormito sei ore di fila mentre lei era rimasta sempre seduta al tavolo accanto alla porta della mia stanza e non aveva visto entrare nessuno quella sera prima di addormentarmi girai la testa sul guanciale e vedi che l'astuccio era aperto e che la penna non c'era più 1956 le acque di marzo due mesi dopo bea e io ci sposammo nella chiesa di sant'ana il signor aguilar che mi avrebbe parlato a monosillabi fino alla fine dei suoi giorni data l'impossibilità di ottenere la mia testa mi concesse la mano della figlia la fuga di bea l'aveva indotto a più miti consigli e ormai si era rassegnato al fatto che il nipote avrebbe chiamato papà lo sciagurato tutto ricucito per di più reo di avergli portato via quella che ai suoi occhi era ancora una bambina nel giorno della prima comunione una settimana prima della cerimonia il signor aguilar venne in libreria per regalarmi un ferma cravate d'oro appartenuto a suo padre e per stringermi la mano bea è la sola cosa buona della mia vita disse abbi cura di lei mio padre lo accompagnò alla porta e mentre si allontanava a lungo calzantana lo seguì con lo sguardo solidale e malinconico che accomuna chi sta invecchiando non è una cattiva persona daniel commentò l'affetto si può manifestare in tanti modi il dottor mendoza decretò che non sarei riuscito a stare in piedi per più di mezz'ora e che i preparativi di una cerimonia noziale non erano la terapia più adatta per un convalescente non si preoccupi lo tranquillizzai non mi lasciano fare niente era la verità fermin romero de torres si era autonominato maestro delle cerimonie quando il parroco della chiesa scoprì che la sposa era incinta si rifiutò categoricamente di celebrare le nozze minacciando anatemi da santa inquisizione fermin perse le staffe lo trascinò sul sagrato e urlò ai quattro venti che era indegno dell'abito e della parrocchia e che avrebbe sollevato un polverone in curia così i suoi superiori lo avrebbero mandato in quel di gibilterra a evangelizzare le vertucce più di un passante applaudì la requisitoria di fermin e il fioraio della piazza gli regalò un garofano bianco che fece bella mostra di sé all'occhiello della sua giacca finché i petali assunsero lo stesso colore del collo della camicia privo di un officiante fermin si recò al san gabriel per richiedere i servigi di padre fernando ramos che non aveva mai celebrato un matrimonio in vita sua e le cui specialità erano il latino la trigonometria e la ginnastica svedese Eminenza il promesso sposo è appena scampato alla morte e non posso dargli questo dispiacere lui la considera una reincarnazione dei padri della chiesa una sorta di santo maso o di sant'agostino una vergine di fatima il ragazzo come il sottoscritto del resto è molto devoto un mistico se lei non ci aiuta ci sarà un funerale invece che uno sposalizio beh in tal caso in seguito mi raccontarono sono sempre gli ospiti a ricordare i dettagli dei matrimoni che prima della cerimonia bernarda e don gustavo barsellò su istruzioni di fermin avevano riempito di moscatello il povero sacerdote per scioglierlo un po durante la celebrazione padre fernando ramos con un sorriso beato e le guance rubizze fece uno strappo alla regola e invece di leggere non so quale lettere ai corinzi recitò un sonetto d'amore di un certo pablo neruda in cui più di un invitato del signor aguilar riconobbe un pericoloso comunista mentre altri cercavano sulle pagine del messale quei versi di rara bellezza pagana chiedendosi se si trattasse di una visaglia dell'imminente concilio la vigilia delle nozze fermin mi annunciò di aver organizzato una festa di addio al celibato per due soli invitati lui e io ma fermin io non si fidi di me lo seguì docilmente fino a un tugurio di cale scudiers dove gli effluvi di un variegato sottobosco umano si mischiavano al puzzo di olio rifritto della peggior cucina mediterranea un crocchio di signorine di rodata esperienza ci accolse con sorrisi che avrebbero fatto la felicità di un'intera facoltà di odontodiatria siamo qui per rossito annunciò fermin a un magnaccia dalle folte basette fermin balbettai terrorizzato per l'amor di dio si fidi di me rossito si materializzò in tutto lo splendore dei suoi 90 chili avvolta in uno sciale da popolana anodato su un abito di viscosa rossofuoco ciao bello non ti facevo così giovane disse dopo avermi squadrato l'interessato non è lui precisò fermin finalmente compresi e tirai un sospiro di sollievo fermin non dimenticava mai una promessa soprattutto se chi si era impegnato ero io salimmo su un taxi per andare all'ospizio di santa lucia e lungo il tragitto fermin che visti il mio precario stato di salute e la mia condizione di promesso sposo mi aveva ceduto il sedile anteriore non fece che decantare le grazie di rosito seduta dietro accanto a lui sei una forza della natura rosito questo culo avrebbe mandato invisibili o botticelli ah signor fermin da quando è fidanzato mi trascura rosito tu sei una donna passionale e io sono malato di monogamia quella ci pensa rosito a curargliela con delle frizioni di penicillina giungemmo in calmoncada a mezzanotte scortando la nostra giunone la facemmo entrare nell'ospizio di santa lucia dalla porta sul retro quella da dove portavano via i cadaveri che si apriva su un vicolo fetido protetto dall'oscurità del tenebrarium fermindia delle ultime istruzioni a rosito mentre io cercavo il nonnino a cui avevo promesso un ultimo giro di waltzer con eros prima che tatanos gli presentasse il conto ricordati rosito che il vecchietto è un po sordo e gli devi parlare a voce alta dicendo frasi provocanti come sai fare tu però senza esagerare sennò ci rimane secco prima del tempo tranquillo tesoro sono una professionista io trovai il beneficiario di quell'amore fugace in un andito del primo piano aveva l'aria di un saggio rimita che ha eretto una muraglia di solitudine tra sé e il mondo mi fissò sconcertato sono morto? no è vivo si ricorda di me? certo come delle mie prime scarpe ragazzo ma è così malmesso che l'ho presa per un abitante dell'aldilà non me ne voglia in questo luogo si perde ciò che voi fuori di qui chiamate il discernimento sicuro di non essere una visione? no la visione la aspetta di sotto se ha la compiacenza di seguirmi lo condusse in una cella che Fermin e Rosito avevano rallegrato con qualche candela e spruzzando un po' di profumo quando i suoi occhi si posarono sulle forme della nostra venere popolana il volto del vecchietto si illuminò che Dio vi benedica si diverta disse Fermin indicando alla sirena di Cale Scudiers che poteva mettersi all'opera la matrona prese per mano il vegliardo e baciò le lacrime che gli scorrevano lungo le guance Fermin e io uscimmo dalla stanza per concedere a quella strana coppia la meritata intimità mentre giravamo per quell'antro di disperazione ci imbattemmo in sua Remilia una delle religiose che gestivano l'ospizio ci guardò in cagnesco mi è giunta voce che avete introdotto in questo luogo una donna di malaffare e adesso anche gli ospiti vogliono compagnia non so se mi spiego per chi ci ha preso illustrissima sorella se ci troviamo qui è solo per motivi caritatevoli questo giovanotto i cui sponsali saranno benedetti domani da Santa Madre Chiesa e io siamo venuti a comunicare la lieta novella alla signora Giacinta Coronado Suore Emilia inarcò un sopracciglio siete suoi parenti? spiritualmente beh Giacinta ha reso l'anima a Dio quindici giorni fa la sera prima aveva ricevuto la visita di un signore è un vostro parente? si riferisce a padre Fernando? non era un sacerdote mi ha detto di chiamarsi Julian non mi ricordo il cognome Fermin mi guardò sbigottito Giuliano è un mio amico dissi Suore Emilia sentì sono stati insieme a lungo erano anni che non la sentivo ridere quando lui se n'è andato Giacinta mi ha detto che avevano parlato dei vecchi tempi di quando erano giovani a quanto pare le aveva portato notizie della figlia Penelope non sapevo che Giacinta avesse una figlia me ne ricordo bene perché la mattina dopo Giacinta mi sorrise e quando le chiesi come mai era così contenta mi rispose che molto presto avrebbe ritrovato la sua Penelope è morta all'alba nel sonno che non la sentivo è un sacerdote che non la sentivo è un sacerdote